Vincenzo Rilli, parliamo di Parcondicio e parliamo di una legge che ha 24 anni. Sì, purtroppo la legge ha 24 anni, se ne parla solo in prossimità delle elezioni e diciamo che l'organo legislativo è sempre un po' restio a cambiare la normativa e quindi abbiamo sentito l'esigenza come Corecom e Piemonte e abbiamo sensibilizzato anche il Corecom e l'Agicom in Italia per parlare e affrontare questo argomento per spiegarlo agli addetti ai lavori, quindi agli uffici stampa, degli enti pubblici, agli amministratori e rendere anche dotti i cittadini perché per loro è un elemento fondamentale. È una parcondicio che bisogna cambiare anche perché ormai la comunicazione rispetto alla normativa è completamente diversa, si comunica sui canali telematici e quindi paradossalmente posso trovare su Instagram e Facebook dei messaggi che invece sulla carta stampata verrebbero sanzionati. Influencer che fanno politica e che non vengono sanzionati. Ce ne sono però anche qui la normativa è carente, l'Agicom sta lavorando su questo aspetto ma diciamo sia a livello nazionale che europeo siamo molto in ritardo.